Con il lancio mondiale Pirelli cinturato Wind, Fandango Club si aggiudica il secondo premio assoluto al BA Italia 2016. Quali sono le caratteristiche secondo te perché è stato così apprezzato? Guarda siamo assolutamente sorpresi da un lato di questo premio e di tutti i premi che poi abbiamo ricevuto appunto a contorno, secondo noi l'elemento che ha un po' fatto la differenza è sicuramente la scelta della location e tutte le difficoltà che una location del genere ha potuto comportare sia a livello ambientale che a livello logistico, però la spettacolarità poi è il risultato finale come speravamo appunto ne valsa la pena. Quali sono gli altri premi che ha ricevuto questa sera perché vi abbiamo visto salire sul palco più di una volta? Allora faccio il conto velocemente perché sono tanti, oltre al migliore evento di lancio abbiamo ricevuto il secondo posto come best event, una missione speciale come best execution, il people choice quindi la scelta del pubblico che è stata dalla nostra parte e poi anche una medaglia di bronzo come migliore evento B2B quindi più di così ne potevamo desiderare.